E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio della nostra serie di Minecraft ETA Oggi inizieremo un piccolo progetto che ho in mente, ma comunque vedete tutto durante il corso dell'episodio Detto questo, vi invito a lasciare un like per questo video, cerchiamo di superare i 2419 like per appunto questo episodio Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche E detto questo, possiamo iniziare subito Ok ragazzi, eccoci qui Allora, prima di iniziare con l'episodio in sé, volevo dirvi un paio di cose La prima cosa che voglio dirvi è che dovete tutti quanti seguirmi su Instagram Questo qui è il mio profilo Instagram, mi raccomando di seguirmi tutti quanti perché Sto cercando di essere il più attivo possibile e sto followando pian piano tutte le fanpage Quindi se potete fare altre fanpage su di me dove fate meme, immagini eccetera eccetera Potete fare tranquillamente, io poi appena vedrò che siete delle fanpage attive vi andrò a followare E se fate qualcosa di carino lo andrò poi a caricare sul mio profilo Instagram La seconda cosa ragazzi è una risposta allo scorso episodio Allora ragazzi, lo scorso episodio non era altro che, diciamo, quasi uno spin off della Vanilla Cioè un episodio a sé, a parte dove c'era una storiella con un inizio e una fine E basta, non era nulla di particolare, non era appunto un episodio dove ci siamo portati avanti con la serie Voglio soltanto appunto specificare questa cosa che quando ci sarà il dottor Capra Chiappa Probabilmente sì, ci sarà una storiella dietro, insomma, sarà un episodio più sull'intrattenimento che sul gameplay in sé E una cosa appunto voglio portare nella Vanilla perché a mio parere dare anche una storiella alla Vanilla ci sta abbastanza Fatemi comunque sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate Molti mi hanno detto anche che ho utilizzato una mod per diventare bambino su Minecraft E sì, raga, è normale, ma non vuol dire che andrò ad utilizzare tutte le mod sulla Vanilla, assolutamente no Quella mod lì, ragazzi, è soltanto una mod grafica, quindi non era chissà che cosa che appunto ho dovuto utilizzare per fare la cosa di essere bambino Specificato questo, quindi non vi preoccupate, la serie sarà sempre Vanilla, non diventerà mai una serie moddata A meno che non ci sia poi un episodio in particolare che in base alla storiella serve qualcosa di una mod Però come ho detto, la serie di per sé, tranquilli, che è Vanilla Fatto questo qui, ragazzi, vi spiego cosa voglio andare a fare oggi Oggi volevo praticamente ricreare in pixel art un piccolo ghast Ma perché non volo? Raga, non capisco perché Ok Oggi voglio andare a ricreare in pixel art Se si può definire pixel art Un piccolo ghast In stile chibi-chibi Insomma, nello stile abbiamo fatto noi l'iron golem O anche il pupazzo di neve Quindi in questo stile è molto piccolino Molto particolare che a me... Aia Oh, ciao golem A me piace tantissimo Perché comunque è più carino anche da vedere rispetto a una pixel art normale Si può chiamare sempre pixel art naturalmente Abbiamo stando 5 di iron ingot Un altro Oddio, ma la farm Cioè, se mi ci metto vicino Funziona Appena sono al cemento lontano, niente La credenza del ghast sarà relativamente piccola Penso un set per set Perché dentro voglio fare una stanzetta Normalissima Nulla di troppo particolare O direi sono roba segreta Insomma Quindi una stanzetta Non andremo a mettere la lacrima di ghast Ma perché le litra sono strane? Non capisco Guardate, non... C'è qualcosa che non va È da qualche episodio, ragazzi Che non capisco Che cavolo succede alle mie litra? Allora mi schianta a terra, no? Scherzavo Comunque volevo andare a fare Il ghast Praticamente solo questa parte E qui Anche perché volevo ricreare In questo punto qua Un portale del nether Fatto come si deve Quindi molto probabilmente Quel portale Poi noi lo andremo a levare Anche perché Quel punto lì Per fare un portale Non ci sta Come anche me lo avete scritto voi Quindi adesso direi che possiamo Iniziare subito La prima cosa che ci servono Sono i blocchi di terracotta Ci serviranno dei blocchi di terracotta bianca Dei blocchi di terracotta grigia E di grigio scuro Ora siccome sono gli stessi blocchi Li abbiamo utilizzato Per l'iron golem Molto lì in mente Già noi li avremo Qua sotto All'interno appunto Del nostro smistamento Ciest Ok qui abbiamo La white terracotta Soltanto che Già essendo un 7x7 Sono almeno Un 49 blocchi Per lato Per 4 lati Più o meno Più le zampette Insomma Abbiamo bisogno ragazzi Di almeno 3 stacche Di terracotta bianca Che ne volendo possiamo fare Perché abbiamo la terracotta normale Che abbiamo preso Nel bioma della terracotta Che si chiama La mesa La mesa Allora abbiamo La light gray terracotta Perfetto Abbiamo anche La gray terracotta E la black terracotta Non so se potrebbe servirci La black terracotta Comunque penso ragazzi Che abbiamo Tutto l'occorrente E andiamo a mettere Dentro la nostra Shulker box Build box Eccola qui Eccola qui Quella Questa qua Quindi il coal Qua dentro non ci sta Ok mettiamo tutto dentro Questa shulker Il coal di per sé Noi lo dobbiamo mettere Dentro la Emerald box Perché dovrebbe essere Il box dove dentro Ci sono tutti gli oggetti sparsi Insomma Che c'è casino dentro Commenti perché 3 4 E 5 Continuiamo In questo modo E facciamo Praticamente Ragazzi Un cubo 5x5 Diciamo che questo qui Sarà l'impalcatura Per il nostro Gust Possiamo mangiare Perché ci mancano Due co-shot E vorrei un attimo Vedere Già Che impressione Potrebbe dare Messo da questa parte Ci sta Ci sta Ci sta Ok adesso andiamo Un attimo Nel nostro Mob spawner Mob grinder Mob schifo Perché ci serve Del bomb meal Perché con il bomb meal Andiamo a fare L'altra terracotta Bianca Ok Qua per fortuna Ho messo la crafting No Ho lasciato i bullet box La No Allora Prendiamo tutta la terracotta E adesso qui andiamo a fare Bianca ragazzi Perfetto Abbiamo 3 stack di terracotta Bianca Più quello che sta dentro La shulker Spero tantissimo Che basti Ok Vogliamo Vogliamo Ok A posto Allora Possiamo Incominciare Allora per prima cosa Facciamo la parte sotto Quindi Incominciamo a ricoprire Tutto Per questo motivo Ho voluto fare Diciamo questa Struttura con la dirt Perché in questo modo È anche più semplice Piazzare i blocchi Soprattutto È sicuro che non vado a sbagliare Le dimensioni E questo qui È l'ultimo lato Praticamente il ghast Avrà questa grandezza Ora noi dovremmo Soltanto fare Tutto il contorno Quindi un blocco Più grande A questo punto A dire la verità Tutta questa Il palcatura interna Non mi serve più di tanto Quindi vabbè Pazienza Pensavo che mi era più utile Però guarda Come sto notando In realtà In realtà Non mi serve completamente Nulla Vabbè A me l'abbiamo fatta E fa nulla Adesso Voglio fare Tutto il contorno Bianco Tranne per la parte Della faccia Perché la parte Della faccia Dovevo fare Pronto la faccia Con gli altri blocchi Quindi andiamo a fare Su tutto il contorno E mi sa che Tutta la terracotta Bianca Non basterà Molti di voi Mi avete anche consigliato Di portare Un altro ghast Nell'overworld E addomesticarlo Ma c'è un problema Il ghast Spara le palle Infocate E le palle Infocate Possono essere Pericolose Soprattutto per i nostri Circuiti In redstone Ok questo qui Sarà il cubo Del ghast Più o meno Devi pensare invece Alla faccia Lì abbiamo tutta la dirt Perché Come abbiamo capito Non ci serve Completamente Va bene L'ho fatto in un punto Molto pericoloso Allora prendiamo adesso Di nuovo la nostra shulker E la portiamo dentro Il ghast Si stai chiedendo Ma poi come farà Entrare dentro il ghast Raga Ho un'idea Veramente bellissima E' molto semplice Di dire la verità Ok mettiamo la shulker qui E cominciamo a prendere Gli altri blocchi Che ci servono Quindi la light grey E anche La grey terracotta I grey terracotta Ne abbiamo soltanto 5 Ma credo che Basterà soltanto 5 Spero Ragazzi ho fatto un paio di prove E ho capito che La misura 7x7 Non va bene Quindi ho deciso Di impicciolirla Di un blocco E quindi l'abbiamo fatta 5x5 E ora Ha comunque Più o meno La faccia del ghast Ci sta ci sta Adesso però Dobbiamo fare Invece I Tentacoli Se si possono definire così Del ghast E andiamo a fare una cosa Praticamente In questo modo E poi andiamo A scendere giù Tipo di 3 blocchi Ma anche adesso Soltanto quello centrale Che adesso Andiamo subito A fare ragazzi Sempre nello stesso Identico modo Andiamo a fare così Perfetto Ora però Come vedete E' sollevato Io volevo fare Che era più o meno Appoggiato Sopra una montagnetta Di terra Quindi andiamo a fare Tipo una piccola Montagnetta di terra In questo modo E l'entrata L'andremo a fare Praticamente qui raga Un'entrata molto semplice Con delle scalette In legno Che adesso andiamo subito A fare Aia E doppio aia Non mi funzionano le litre Mi sa che devo portare Le litre dal meccanico Sì sì Mi sa proprio di sì Perché sono rotte Ok qui abbiamo delle scalette Ne prendiamo 31 E dovremmo fare In realtà ragazzi Anche un altro Item frame Dove dobbiamo mettere La lacrima di gas Quindi ci serve questo qui E degli stick Che andiamo subito A fare Tutti questi Bastano Perfetto Abbiamo fatto gli stick Faccio adesso L'item frame Per la nostra lacrima di gas Adesso andiamo subito A prenderlo dentro La nostra camera da letto Quindi questo è fatto Saliamo sopra Opla I miei personaggi Non si stanno incitrullendo Non so che problemi abbia Guarda Non ce la faccio salire Lacrima di gas Eccola qui Il nostro trofeo ragazzi Sinceramente non voglio Neanche rinominarla Perché non avrebbe Tanto senso Rinominare la lacrima di gas Perché comunque È la lacrima di gas Del gas Che abbiamo portato Nell'overworld Quindi direi che Possiamo anche lasciarla Senza rinominarla Adesso andiamo a mettere qui Le scalette Per entrare dentro Quindi Mettiamo una torcia Mettiamo una torcia Qua In questo modo Ora io ho preso Anche Quella rossa E Quella Ciano Mettiamo la rossa così Poi prendiamo L'item frame Con la nostra lacrima di gas Lo mettiamo così E Così Ci sta ci sta Il rosso ci sta In questo modo Anche se forse Non lo so Con o senza il blocco rosso Perché con il blocco rosso Si Si riempicisce lo spazio Essere sinceri E ragazzi Abbiamo fatto adesso La nostra stanzetta Del trofeo Dentro un gas Vi ricordo che In stile Chibi cibi schifo Quindi Dove essere uno stile Più carino Che spaventoso Raga non mi volano le litra Facciamo il giro del nostro Orologio E vediamo adesso com'è No raga è carino Ci sta dai Non è bruttissimo A me piace Cioè a me questo stile Piace essere sincero In una vanilla Ci sta Quindi ragazzi Stavo pensando adesso Di fare lì il gas Posso provare a farne Un altro O altri due Per riempire un pochino Lo spazio sopra E fare poi là sotto Il portale Quindi andremo poi Nei prossimi episodi A sistemare tutta la zona Qua sotto Perché è piena di alberi Non c'è niente Un sentiero Niente Perfetto ragazzi Detto questo Io direi che Questo episodio Insieme al nostro Ghast Là dietro Che continuano Sarà lacrime di Ghast Può anche Finire qui E ragazzi Questo episodio Della valina Finisce qui Spero tantissimi Vi sia piaciuto Se si fate Un pochino in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare In descrizione Perché lì sono tutti I link dei miei social Come instagram E telegram Mi raccomando Seguimi su entrambi E se ancora non vi siete Iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo prescrivervi al canale Basta cliccate nell'altra Che sta qui C'entra lo schermo E se già l'avete fatto Poi cliccare a sinistra A destra Per vedere un altro mio video Nada guys Questo episodio Finisce qui E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti